che il signor Rolatrina è impedito e che lo stesso sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Da atto di aver già richiesto alla Cassia Centro Corriere di Casa, a notizie e comunicazioni precise, in una situazione personale e legge il problema. E che il taglio non si è fatto tutto. Sino ad ora non si è fatto tutto. Allora io direi che facciamo così senza tenere certi dubbi. Direi che se spendiamo il libretto, rivediamoci per due pubblici.